Gentili telespettatori, buona giornata. Secondo Cottarelli, sul caso dell'elezione di La Russa alla Presidenza del Senato, dove sono mancati 17 voti, o meglio, ci sono stati 17 voti dell'opposizione che hanno fatto eleggere La Russa perché Forza Italia non ha voluto partecipare per dare un segnale, secondo loro, della prepotenza di Giorgia Miloni che non voleva l'infermiera ministro, già tutta fa ridere anche la cosa. Cottarelli sulla Russa dice «Ma la mattina era cominciata dal nostro punto di vista con una buona notizia, il centrodestra non è unito, quindi già a sinistra sapevano, e figuratevi se non sapevano a destra di quello che stava per succedere». Quindi lui dice «Noi a sinistra sapevamo già che il centrodestra non era unito». Lo dice da Corrado Formigli sulla 7 nel programma Piazza Pulita. Qualcuno all'opposizione ha votato con il centrodestra per fare eleggere La Russa. Perché? Chi? Abbiamo fatto in questi giorni alcune ipotesi. Dice Cottarelli «Abbiamo passato tutto il tempo delle votazioni tranquilli dicendo «Non è certo un buon inizio per questo governo se fanno vedere che non sono uniti su questa cosa», dice l'economista poi eletto al Senato col PD. A un certo punto però è scoppiato l'applauso di Fratelli d'Italia. E lì si è capito che qualcosa era andato storto, ma c'è stata un'enorme sorpresa nell'ambito del gruppo del Partito Democratico per quello che stava succedendo. Un applauso improvviso di Fratelli d'Italia. E qui c'è il retroscena di Cottarelli. Quelli di Fratelli d'Italia facevano la conta, quindi sapevano che c'era un accordo. Hanno fatto un accordo con qualcun altro, ma non si sa chi. Io ho sempre pensato che fare un accordo con due gruppi è sempre più complicato che farlo con uno solo. Allora la logica direbbe si fa l'accordo col gruppo più grande, quello che consente di avere 18-19 voti che mancavano. Secondo Cottarelli però qualcosa verrà a galla nei prossimi giorni. Una cosa che può servire a vedere la prossima settimana, quando si eleggono i vicepresidenti, se c'è qualcuno che ci guadagna da questo accordo. Lui dice io ho visto che contavano, hanno fatto l'applauso quando hanno raggiunto il numero con un accordo previo. È probabile, possibile, che Fratelli d'Italia e la Lega abbiano fatto un accordo magari con Renzi per aiutarli a far passare Ignazio Larussa. Renzi e Calenda ovviamente avrebbero fatto questo accordo che fino adesso è rimasto segretissimo perché nessuno ha fatto trapelare nulla. Questo accordo potrebbe servire a Calenda e a Renzi per qualche posizione, qualche poltrona o semplicemente un dire guardate che se non c'è Berlusconi con l'8% ci siamo noi con l'8%. Berlusconi è sostituibile con noi. E questo potrebbe appunto far presagire che il centro, Calenda e Renzi potrebbero comunque davvero fare un appoggio esterno a questo governo. Oppure è solo un mero scambio di poltrone. Tu ci aiuti, noi vi facciamo avere e poi vi facciamo delle nomine magari in qualche azienda qualche partecipata vi diamo delle poltrone qui la presidenza di qualche commissione di qualcosa. Quindi c'è un accordo per probabilmente, non lo so la mia idea molto simile a quella di Cottarelli è che c'è stato un accordo per l'assegnazione di qualche poltrona o un accordo all'apparenza gratuito di Renzi per eventualmente far capire che loro potrebbero essere i sostituti di Berlusconi e potrebbero entrare in questo governo. Cosa che la vedo veramente difficile. Immaginatevi Renzi, Salvini e Calenda insieme. Quanto potrebbero durare? 15 minuti? Arriverebbero a mezz'ora? Non si sa. Probabilmente, escludendo forse questa cosa del se va via Berlusconi ci siamo noi che la vedo decisamente improponibile probabilmente c'è un accordo poltronaro un accordo di poltrone soffà. Poi ieri vi facevo una riflessione dicendovi beh, Calenda praticamente è molto simile alla Meloni solo che sono in due partiti antagonisti e se metti due persone simili in due partiti antagonisti si scontrano immediatamente. Se invece voi li mettete dalla stessa parte essendo molto simili questi potrebbero andare d'amore, d'accordo avanti come un treno perché io Calenda e Meloni li vedo molto simili. vedo Calenda e Renzi due uomini non più di centro-sinistro-sinistra ma li vedo assolutamente degli uomini di centro-destra anche perché realmente oggi la sinistra non fa più la sinistra e la destra fa la sinistra. C'è stato come uno scambio di ruoli uno scambio di ruoli e molto più di destra un Letta di un Salvini per esempio. Quindi con questo scambio di ruoli questi rimescolamenti la politica oggi del centro-destra che è una politica praticamente di sinistra verso gli operai le classi meno abbienti politiche sul lavoro così oggi c'è un centro-destra che è molto molto simile al centro-sinistra di qualche tempo fa. Come diceva Umberto Eco un giorno l'anticomunista Berlusconi e Salvini e Meloni diventeranno i primi comunisti in Italia e sembra proprio che si stia comunque quasi avverando. Io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti ricordatevi che siamo anche su Teleitalia Seconda Rete poi c'è anche l'altro canale In Cucina con Carla che è il canale di mia moglie appunto di cucina se volete dargli una mano andate a dargli un occhiale non un occhiale neanche un cannocchiale ma un'occhiata grazie a tutti e arrivederci a presto ci vediamo tra poco grazie a tutti grazie a tutti